Sono qui perché il presidente Trump non c'è. Gioca la carta ambientale Michael Bloomberg, miliardario, filantropo e contendente democratico per la corsa alla Casa Bianca 2020. Al vertice sul clima delle Nazioni Unite ha assicurato al mondo che gli americani stanno continuando a guidare la lotta ai cambiamenti climatici anche con un negoazionista come l'attuale capo di Stato repubblicano. L'ex sindaco di New York a Madrid non ha menzionato la propria campagna presidenziale e lo farà invece al primo comizio elettorale in California alla convention dell'American Geophysics Union insieme con l'ex governatore della California, il Dem Jerry Brown, tra i governatori più amati nel Golden State. Bloomberg è entrato nella follata gara delle primarie democratiche del 2020 a novembre 2019 annullando una decisione che va preso all'inizio dell'anno, non cercare la presidenza. Bloomberg peraltro è un democratico spurio nonché l'ottava persona più ricca al mondo, fiscalmente conservatore e socialmente liberale. Già a capo della Grande Mela aveva preso decisioni importanti vietando il fumo nei locali pubblici, riducendo l'obesità infantile e dichiarando guerra alle bibite zuccherate e standard alimentari sbagliati, grande nemico del welfare a stelle strisce. Ma oggi è soprattutto il clima il tema centrale per Bloomberg e la sua corsa alla Casa Bianca un vero punto di distinzione. A novembre 2019 il presidente Donald Trump ha dato il via al processo formale di ritiro degli Stati Uniti dagli accordi di Parigi e nessun funzionario della Casa Bianca di Trump ha partecipato ai colloqui sul clima a Madrid.